Ma guardi, Forza Italia è un partito aperto, Forza Italia è un partito che vuole allearsi con tutte le forze che si dichiarano alternative al governo Renzi, che vuole costruire al più presto un'alternativa politica per questo paese, che vuole tornare a governare per questo paese perché ritiene di avere le ricette migliori, dopodiché le porte del nostro partito sono sempre state aperte a chi vuole entrare e a chi non condivide più le nostre idee, così come le alleanze sono perseguite da noi con grande pazienza e grande pervicacia. Mi auguro che già a partire da queste regionali, in cui stiamo un po' costentando a mettere insieme un centro-destra e non per colpa nostra, prevalga la ragionevolezza di tutti e finisca l'egolatria elevata a linea politica.